La prima giornata romana di Mendes France A Palazzo Chigi egli visita il ministro degli esteri Martino Esperti italo-francesi hanno analizzato i problemi che faranno oggetto di questi incontri ad alto livello Da Piazza Corona l'auto si dirige verso Montemario dove tra l'antico verde sorge in vista di Roma la stupenda Villa Madama Qui l'ospite è ricevuto dal presidente Scelba e con lui visita e ammira la meravigliosa architettura e decorazione delle sale Nel precedente pomeriggio Scelba aveva approfondito i problemi che saranno oggetto dei colloqui A Montecitorio Mendes France è accolto da Gronchi Si festeggia l'uomo che ha risolto difficili dibattiti con stile degno delle più alte tradizioni parlamentari Al Senato è Merzagora a fare gli onori di casa Anche qui si plaude al politico che in pochi mesi ha riscosso l'ammirazione del mondo Si augura il miglior successo alle conversazioni italo-francesi